Manifestazione questa mattina degli operatori ecologici del comune di Palagonia che stanchi di ascoltare promesse poi non mantenute hanno deciso di occupare il municipio di Palagonia salendo fin sopra il tetto. Il comune non paga i netturbini da quattro mesi ecco perché hanno deciso di incrociare le braccia fino a quando non avverrà lo sblocco delle mensilità dovute. Tutti i netturbini di Palagonia non sono a sciopero stiamo facendo solo una manifestazione perché noi il comune deve quattro mesi di stipendio noi non ce l'abbiamo né con il sindaco né con gli altri vogliamo i nostri soldi a quattro mesi che ci prendono in giro. L'abbiamo portato il sindaco anche dal prefetto. Il prefetto gli ha detto che non gli dia soldi alla ditta, gli dia agli operai perché la ditta si prende i soldi e non gli dia i soldi. Infatti è successo, gli ha dato 250 mila euro e non ci ha portato neanche una lira. Un altro mese, un altro mese ancora, ora sono quattro mesi, sono 120 giorni. Noi vogliamo i soldi, noi non ci interessa più questa cosa domani, dopo domani eccetera eccetera. Noi abbiamo delle famiglie a casa, non siamo noi soli. Io ho una famiglia, ho tre persone a casa che devono mangiare. Perciò come sono io sono tutti gli altri uguali a me. Io non ce l'ho con nessuno né con il sindaco e né con il comune di Palagonia. Io voglio solo i miei soldi perché ho lavorato e è giusto che i soldi alle persone che lavorano si cediano. Noi chiediamo almeno un incontro con il prefetto subito e almeno due mensilità, due mensilità subito e due mensilità dopo dieci giorni. Vogliamo questo qua, almeno. Poi se le cose si possono mettere migliori perché noi giorno 28 ora facciamo quattro mesi lavorativi. E siccome ci sono le carte che parlano, che ci hanno fatto fare delle ingiunzioni alla ditta, al comune e via dicendo e firme e cose, avvocati eccetera eccetera, ma i soldi non si sono visti a 120 giorni.